Galateo è una predisposizione a leggere il mondo in maniera gentile, se si legge il mondo in maniera gentile sorgono degli interrogativi, se sorgono degli interrogativi si cercano le risposte e quando si cercano le risposte si produce cultura o si cerca nella cultura la risposta. Un libro indicato per chi ricerca l'armonia e l'eleganza nella convivialità della tavola. Galatime, atto secondo, volume scritto a quattro mani da Petra Carzetti, docente di Galateo e già campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola e Carlo Cambi, saggista, giornalista e gastronomo, è infatti un vero e proprio manuale dell'arte di ricevere. Non è semplicemente la trattazione della forma quello che caratterizza questo testo, ma è invece la contestualizzazione, l'origine, l'ambito in cui l'esigenza della forma si fa sostanza. Il manuale, che propone un'eleganza raffinata nella vita quotidiana, trasformando ogni momento in palcoscenico di precisione e d'attitudine, è stato presentato nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Io credo che i nostri tempi si siano involgariti proprio perché si è smarrito il senso della ricerca della bellezza. E tornare a parlare di Galateo, anche delle formalità che il Galateo in qualche modo impone, ci serve a rieducarci all'osservazione dell'altro, quindi del nostro simile, e all'osservazione anche del territorio, del contesto dove ci muoviamo, per far emergere i valori che tutto questo ci consegna e ci propone. E questo è un'attenzione alla bellezza indispensabile per restituire alla relazione quell'educazione che si è andata perdendo.